Guarda ma, dove sono sti ragazzi? C'è qualche bel percorso, dove andate oggi? Sì, oggi stiamo sulle colline moreniche a sud dell'acqua in cui abbiamo fatto il paese il paese dell'unico e per questo abbiamo fatto una risulta di ricerca le battaglie contro l'unico-ungheria con le borini in l'america e le borini in l'aereo con le borini in l'aereo con le borini in l'aereo per il fatto del centro per la barba per la barba per il paese per la barba Allora! Buon giorno! Grazie a tutti